E va Gianni d'Arte, buonasera. Visto che anche oggi abbiamo una bellissima giornata primaverile, andiamo in Piazza del Campo per la Fonte Gaia, principalmente per le due statue che adesso non ci sono più e che possiamo vedere al Santa Mera della Scala. Le ha realizzate Jacopo della Quercia, insieme a tutta la Fonte Gaia. Abbiamo la documentazione della realizzazione di questa scultura, di questa struttura scultorea. e abbiamo la data di oggi, l'ultimo pagamento a Jacopo della Quercia del 1419. Fonte Gaia perché a metà del Trecento, quando arriva l'acqua in Piazza del Campo, la gente è felicissima di avere questo approvvigionamento idrico. La prima fontana probabilmente aveva una Madonna con il bambino, quindi non era grande come la vediamo adesso. All'inizio del Quattrocento commissiona il Governo della Repubblica quest'opera Jacopo della Quercia che si divide fra i cantieri di Siena e Lucca. Lui lo sta lavorando a Lucca alla Cappella 30, quindi era già richiesto a Bologna. Era comunque uno scultore diciamo internazionale, molto famoso. E lo realizza con la sua consueta flemma, con la sua consueta calma, finendola appunto nel 1419. Abbiamo tra l'altro degli disegni fatti da lui e che probabilmente erano allegati proprio al primo contratto stipulato. Vedete qua una fonte che era un po' diversa da quella poi realizzata che sarà più grande, più decorata rispetto appunto al programma iniziale, quindi anche più costosa. E realizza tutto in marmo della montagnola, che è un marmo locale appunto della montagnola senese, non particolarmente prezioso e molto molto fragile, deperibile sotto gli agenti atmosferici. Non solo, ma la fonte poi essendo in piazza del campo, essendo una fonte pubblica, quindi ci si poteva prendere l'acqua e veniva utilizzata anche, vi faccio vedere sempre il suo depinto del rustici, ecco qua la fonte, per starci sopra per vedere i calciatori e poi dopo i pali, tra l'altro c'è appunto la documentazione che nel 1700 una statua di questa è a tutto tondo, l'aria Silvia è caduta uccidendo una persona, quindi insomma è stata poi restaurata, ecco erano ridotte veramente male. Tra l'altro che queste due figure non sapevano nemmeno più chi fossero, si pensava alla fede e alla carità, la carità e la liberalità, la carità pubblica e la carità divina, insomma un po' un misto diciamo. Solo recentemente la dottoressa Caciornia ha individuato, a questo punto senza ombra il dubbio, che si tratta di Rea Silvia e a Calarenzia, ve le faccio vedere. Intanto come erano? Questa è una rarissima foto, penso l'unica, prima che fosse smantellata la fonte Gaia, vedete quelle due statue ai lati, fonte smantellata e sostituita con la copia autoscientesca di Tito Sarrocchi. L'originale fu messo nell'opera del Duomo, all'interno dell'opera del Duomo, poi all'inizio del 1900 fu montato in un modo del tutto arbitrario, vi faccio vedere, all'interno della loggia del Palazzo Pubblico, io me lo ricordo di averlo visto qua, perché appunto ha una certa età, ecco qua. E poi adesso è musealizzato all'interno del Santa Maria e dovete assolutamente andare a vederle, perché sono fantastiche, i rilievi sono rovinati, anche queste hanno subito insomma delle belle batoste, però sono bellissime, Jacopo riesce a unire mirabilmente quello che è la tradizione gotica, vedete questa specialmente qua, ok, nell'acca Larenzia, che è questa donna a seno nudo, praticamente l'ondeggiamento, l'anchement si chiama in termini tecnico gotico, quindi questa linea sinuosa, questi panneggi profondi, molto segnati, ha questa bellezza dei volti, questa armonia e questa leggiadria anche dei volti delle due donne. Tra l'altro Jacopo, siamo negli anni quando realizza quest'opera del cantiere di Orsa Michele a Firenze, quindi queste statue di Donatello, Ghiberti, Nanni di Banco, che realizzano per le nicchie delle arti nella chiesa, nella particolarissima chiesa di Orsa Michele a Firenze, ma sono ancora statue entronicchie, quindi la statuaria è ancora vista come una decorazione all'architettura, quasi una subordinata, queste sono fra le prime, se non forse le prime, magari mi correggerete nelle vostre commenti, statue a tutto tondo della storia dell'arte, quindi sicuramente a Siena. Quindi nel 1419 si realizza un qualcosa che è visibile da tutti i lati, una cosa veramente nuova, ok, e quindi qui siamo già in rinascimento, rinascimento atipico, Jacopo della Percia non è proprio il rinascimento a cui siamo abituati, ma è sicuramente, sicuramente rinascimento. Per quanto riguarda le due figure in sé, cioè chi sono Rea Silvia e H. da Renzi, e vi rimando a domani, faremo appunto una puntata di nuovo per voi ragazzi, parlando delle origini di Siena, ok, e quindi della lupa senese, va bene? Vi aspetto domani, nel frattempo se volete appunto mettete un commento con critiche, precisazioni, suggerimenti, domande, l'hashtag è sempre Evasioni d'Arte, trovate tutti i video all'interno delle pagine Instagram e Facebook chiocciolagiulaturguide.com, ok? A domani con le origini della città di Siena, ciao!